ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con il tg plus 13 ormai la stagione del ciclismo su strada è terminata c'è chi si dedica al ciclo cross al fuoristrada come abbiamo visto anche al gravel e c'è tutto un un avvio di preparazione per la prossima stagione agonistica abbiamo qui con noi il manager della solme olmo giampiero forcolin grazie per essere tornato grazie a voi a trovarci per raccontarci non tanto come è stata questa stagione vostra per i risultati ma un po dal tuo punto di vista vedendo un po dall'alto estraneandoti dalla tua squadra com'è questo movimento ciclistico allora innanzitutto penso che il movimento ciclistico italiano sia ancora abbastanza vivo a rispetto di tutto quelli che vogliono dire che non abbiamo atleti o cose secondo me magari sto dicendo una tra virgolette una cavolata ma ci vuole anche un po di pazienza se pensiamo di avere tutti in casa pogaciaro e venepo non andiamo da nessuna parte sono due fenomeni se non fossero fenomeni non avrebbero fatto quello che hanno fatto la prova ne è che l'altro sloveno non ha ventitré anni ne ha molti di più dunque che si parliamo di roglic di roglic che arriva però dal mondo dello sci va beh ma allora ciclo amatoriale dello sci ma allora secondo me che arrivi da un mondo ciclo amatoriale era comunque un atleta performante anche nello sci non era uno qualunque dunque qualche numero ce l'aveva che poi magari ha scoperto che la bicicletta gli dava più soddisfazione o più prestazioni di quelli che erano gli sci questo è un altro discorso ma non è che siano anche i nostri chiamiamoli preparatori i nostri tecnici voi tecnici che avendo l'occhio solo sul ciclismo non guardano altri atleti che provengono da altri sport non forse perché anche a livello italiano non viene guardato lo sport in generale e scelto e spostato un atleta ad uno sport rispetto ad un altro guarda oggi non lo dico io ma lo dicono i fatti prima di decidere di prendere un atleta viene passato sotto i test se i test danno dei riscontri attitudinali con un certo minimo ci si mette d'accordo si cerca di prenderlo se abbiamo dei test che sono al di sotto di certi livelli con tutta la buona volontà che possiamo avere non possiamo permetterci di tesserare o di far gareggiare degli atleti con dei valori bassi tanto per essere molto chiaro agli atleti bisogna dirgli chiaramente se valgono non valgono ma sicuramente si bisogna avere il coraggio di dirglielo è vero che magari questo non glielo puoi dire a un juniore se perché nel 90 per cento dei casi non hanno ancora raggiunto il loro sviluppo fisico ma a un ragazzo di terzo quarto anno under o addirittura elite bisogna guardare in faccia la realtà che dopo posso essere d'accordo quando dicono bruciamo dei ragazzi troppo presto è vero anche questo ma non dobbiamo neanche creare dei falsi campioni qualche settimana fa ero alla veneto classic hanno dato l'addio al ciclismo corridori come gavazzi come manuele boaro c'è gente che ha fatto 18 anni 13 anni nel professionismo e loro stessi mi hanno detto non è più il ciclismo che conoscevamo noi è un ciclismo di esasperazione un ciclismo in cui non ci si può fermare non ci ritroviamo più in questo ciclismo e non abbiamo soprattutto più la forza per resistere quanti potrebbero essere gli atleti che adesso corrono per ben 18 anni tra i professionisti ma secondo me pochissimi a parte qualche nome tu hai fatto questi ti faccio l'esempio di Trentin che io conosco bene perché veniva da me lui è passato nel 2011 ha già firmato per altri tre anni con la Tudor che significa 2011 oggi siamo 23 finisce 2026 finirà con 17 anni di professioni ma ha firmato nel 2011 ha firmato nel 2011 la realtà ed è passato a 23 anni a 22 anni scusa era ultimo anno under dunque neanche proprio giovanissimo la realtà è che secondo me soprattutto nel professionismo per restare a grandi livelli riesce a stare a grandi livelli 45 anni non di più e dopo di che tutti sono alla ricerca del sostituto e di conseguenza probabilmente dopo 7-8 anni comincia ad avere un po' di nausea perché i ritmi sono talmente esasperati che probabilmente uno dice vabbè ho fatto quello che dovevo fare cambiamo vita prendiamo il caso di Evenepol vince da junior il giro di lunigiana stacca di più di mezz'ora c'è una cosa mai vista nel ciclismo passa subito professionista e comincia vincendo ma ripeto l'ho detto all'inizio è al quarto anno tra i professionisti il quarto anno sì sono dei fenomeni quanto resisterà? allora è difficilissimo dirlo è difficilissimo dirlo se prendiamo Pogacar Pogacar ha fatto un percorso diverso rispetto a Evenepol nel senso che sì era forte da junior era forte da allievo è stato forte anche da under ha fatto un paio d'anni ha vinto l'avenir e poi è passato professionista e ha vinto subito il tour nessuno avrebbe mai detto che lui avrebbe vinto il tour subito dal primo anno da professionista in realtà poi abbiamo visto che ha fatto un po' più fatica negli anni successivi anche lui che significa che magari poi ci sono degli adeguamenti degli altri verso l'alto che ti portano magari a non raggiungere certi risultati la realtà è che purtroppo l'altezza della preparazione è talmente al massimo che basta un niente per essere vincitore o vinto tu che hai una squadra insomma i tuoi risultati le tue soddisfazioni te le sei prese quest'anno senza chissà andare a fare chissà giri pindarici voli pindarici pazzeschi come altre squadre le tue soddisfazioni ma che cosa ti dicono questi ragazzi? beh allora io quest'anno avevo una squadra abbastanza grossa nel senso 18 atleti in questo senso intendo grosso cioè molto numerosa e abbiamo fatto un'attività anche molto intensa non solo italiana anche all'estero ragazzi cosa vuoi che dicano? a un certo punto poi cominciano a chiedersi ma tutto quello che facciamo la vita che facciamo ne vale la pena? qualcuno dice sì perché io voglio passare professionista però qua ritorniamo al discorso di prima bisogna essere obiettivi hai le doti o non hai le doti per passare professionista oppure sei lì che stai bene nel mondo dei direttanti esatto questa potrebbe essere la soluzione insomma per il resto hanno tante aspirazioni questi ragazzi ma molte aspirazioni se le guardiamo sotto questo profilo e per fortuna dico perché se non hanno aspirazioni a 20 anni 22 quando dovrebbero averle d'altro canto però fanno anche fatica a guardare la realtà fanno fatica a guardare la realtà pensano sempre che l'altra squadra sia migliore della sua perché magari hanno dei ragazzi dei talenti dotati in maniera diversa che vincono di più o raggiungono più risultati tu hai detto noi ci siamo tolti secondo me le nostre belle soddisfazioni perché comunque finire dodicesimi in classifica nazionale per una squadra come la mia è un buonissimo risultato avremmo firmato nero su bianco per molto meno di quello che abbiamo fatto dunque va bene così quante vittorie avete fatto? 5 vittorie, 8 secondi posti, un'altra miriata di piazzamenti nei terzi, quarti e quinti dunque se siamo dodicesimi a livello nazionale insomma un po' di lavoro è stato fatto ma quello che mi ha più accontentato è stato il lavoro che abbiamo fatto all'estero perché all'estero abbiamo avuto parecchi risultati di valore confrontandoci con squadre di valore sì perché è inutile vincere come si suol dire sempre il circuito del campanile servono anche i circuiti del campanile perché servono per fare kermesse per fare un po' di pubblicità a livello locale queste cose qua però se vogliamo far crescere i ragazzi dobbiamo cercare di portarli a fare magari una corsa in meno ma delle cose che abbiano un senso a livello prestazionale hai avuto appunto le tue soddisfazioni con dei ragazzi qualcuno spera in questi giorni di poter passare professionista le squadre sono sempre meno anche world tour passare in una world tour non è semplice passare in una professional forse un po' di più però che cosa richiede una professional o una world tour ad un atleta che ingaggia? quello che ti ho detto prima la tabella dei tuoi valori se rientri in determinati valori ti provano, ti dicono sì, no, vediamo, facciamo world tour, devi essere veramente al top al top perché altrimenti non ti prendono neanche in considerazione dobbiamo tener conto però che tutte le world tour hanno le development dove, a mio modo di vedere, sono più i ragazzi che bruciano che non quelli che fanno passare perché la competizione è talmente alta tra di loro sì, per voler passare per voler passare in prima squadra in prima squadra, ecco che su 18 ragazzi magari 2 passano ma 10 sono veramente bruciati che tornano indietro è un po' come nel calcio, insomma c'è la primavera e la prima squadra e quindi stiamo arrivando verso quel sistema ciclistico che forse però non è proprio nostro del ciclismo non è certamente nostro del ciclismo perché veniamo da una tradizione o da un sistema che non era questo oggi purtroppo con tutto che va a tripla velocità non a doppia, a tripla tutti hanno bisogno di avere immediatamente ricambio perché? perché come ti dicevo 4-5 anni a tantissimi livelli poi rimane il nome ma di fatto non sei più a quel livello ma anche mentalmente soprattutto mentalmente questi ragazzi tu che giri vedi anche i ragazzi di altre squadre mentalmente reggono lo stress diciamo che ci sono dei ragazzi abbastanza inquadrati degli altri che non sempre riescono a tenere duro e a sopportare e a sopportare un carico di lavoro e di gestione molto tirato come può essere quello odierno altri che poi a metà saltano proprio completamente e ti dicono basta siamo ormai praticamente in chiusura in Italia abbiamo un Pogacar un Mathieu van der Poel un Evenepol un Van Aert ma secondo me ci sono dei buoni ragazzi eh buoni ma come i nomi che ti ho fatto? ma guarda che ce ne sono due al mondo non è detto può darsi che prossimo anno lo troviamo in Italia ma può venire fuori dalla Danimarca piuttosto che da un'altra arrivano arrivano l'abbiamo visto in questi ultimi anni tutti dalla Danimarca dalla Slovenia dal Belgio e dall'Olanda ma secondo me è ciclica la cosa e soprattutto a periodi dunque non mi meraviglio di questo la realtà è che magari qualcuno ha più fame di noi ecco e con questa saggezza con questa perla di saggezza chiudiamo qui ringraziamo Gian Piero Forcolin e ci vediamo la prossima settimana e ci vediamo la prossima settimana e ci vediamo la prossima settimana